Ricostruire la politica, è questo il tema dell'anno che sarà affrontato dalla Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi. La prima lezione ha visto l'intervento del Vescovo Pierantonio su Costruire la città, il compito della politica alla luce della parola di Dio. Sentiamo tutti il bisogno di una politica diversa e soprattutto il bisogno di uno spazio di pensiero, di riflessione, di confronto per poter affrontare i grandi temi che il sociale presenta con maggiore competenza e approfondimento. Abbiamo preso spunto dal libro di Padre Occhetta, Ricostruiamo la politica, e grazie al percorso che lo stesso Padre Occhetta ha offerto nel suo libro vogliamo proporre ai giovani, dai 18 ai 30 anni, questo percorso per cogliere come costruire il bene comune, anche alla luce della parola di Dio, fare un approfondimento sulle grandi tematiche di oggi legate al superamento della democrazia rappresentativa che qualcuno propone per coglierne anche tutti i rischi e valutare insieme anche oggi quali possono essere i criteri di valutazione delle scelte politiche che vanno oltre la dimensione della destra e della sinistra. Sarà quindi un percorso fatto di lezioni, ma anche di confronto, di laboratori, per studiare insieme anche quali sono i temi salienti oggi della questione politica e aiutare i giovani ad affrontare e comprendere le possibili soluzioni. Siamo in un momento in cui le democrazie rappresentative sono in crisi e i giovani è necessario formarli ed educarli ad un pensiero critico capace di discernimento, di confronto e non semplicistico, insomma che non corre il rischio di assumere posizioni senza assumere anche la complessità della realtà in cui sono inseriti. La scuola di politica diocesana si rivolge ai giovani adulti dei 18 ai 30 anni.